allora parliamo di questo di queste voci riguardanti la panchina del milan per la prossima stagione il nome più insistente che si vocifera e da giorni oramai se ne parla da giorni anche da mesi se ne parla tanto è quello di antonio conte sembra che pratica ibrahimovic estimatore del tecnico salentino ex juve ex inter ex celsi ex tottenham vorrebbe portarlo sulla panchina del minan per la prossima stagione al posto di stefano pioli che secondo me il ciclo finito e a giugno le parti si saluteranno e quindi ci sarà bisogno di un nuovo allenatore per la prossima stagione cominciamo il nome più insistente e antonio conte molti dicono che lui vuole ripartire dall'italia la fila il milan è molto gradito come al tecnico salentino come squadra come ripartenza anche sua nell'allenare perché ricordiamo che antonio conte è fermo al momento quindi non sta allenando si sta aggiornando sta facendo corsi sempre in aggiornamento quindi non ci sono problemi per il per il tecnico leccesi a prendere una panchina e ripartire quindi per la prossima stagione non ripartirà mai a stagione in corso lo ha fatto capire non l'ha mai detto ma l'ha fatto capire quindi se antonio conte torna ad allenare si parlerà da luglio 2024 quindi prossima stagione squadra in corsa difficilmente in questo momento il tecnico leccesi le considera e quindi prende in considerazione per quanto riguarda la situazione milan ovviamente sarebbe un salto di qualità perché antonio conte ti porta garanzie a livello italiano italiano quindi ti parla si parla di successi perché con la juve ha vinto tanto con l'inter ha vinto lo scudetto il mercato ovviamente si sa che con il tecnico leccesi a devi garantirli alcuni calciatori che lui vuole quindi sarebbe un'ottima scelta per il milano non è l'unico numero niente che c'è perché si parla anche di tiago motta perché sta facendo molto bene con il bologna però al momento le voci portano tutte al tecnico salentino presto per parlarne anche inadeguato perché c'è una stagione ancora da concludere il milan e terzo in classifica si è staccato dalla vetta però deve guardarsi dalle squadre dietro anche se il margine di punti è ampio e non al momento non preoccupa la prossima qualificazione champions tra dieci giorni riparte l'europa league e i rossonieri se la vedranno nel doppio confronto del playoff contro i francesi del ren e si cercherà di andare il più avanti possibile chissà anche conquistarla questa coppa che nella pacheca del minan manca perché non è stata mai vinta quindi il nome più insistente per la panchina rossoniera del prossimo anno e antonio conte ce ne sono altri pioni sembra arrivato al capolinea e quindi a giugno probabilmente le parti si saluteranno vedremo cosa succederà è sempre forza milan grazie a tutti Grazie a tutti.